Ieri avrei dovuto trovare le parole giuste per poterti dire, indicare i passi di una strada giusta posti per poter trovare quella che al di là di ogni intenzione io chiamerei l'ispirazione. Ma so che si tratta di un segreto, di un mistero, a dirtelo non pare neanche vero. Si tramonda di generazione in generazione il mistero dell'ispirazione. Una volta si imparava alla perfezione dopo tanti anni che si frequentava uno stregone, E forse nel segreto della mente, nei riposti nascondigli della gente, forse troverai con attenzione la tua strada, un dì per trovare l'ispirazione.